Benvenuti alla conferenza stampa di oggi dal Sinodo delle Chiese Baldesi e Metodiste. Un saluto anche a chi ci ascolta da Radio Voce della Speranza e da Radio Beckwith e da chi ci segue in streaming dal sito web di Radio Beckwith, radiobackwith.it. Il tema scelto per la conferenza stampa di oggi intende affrontare e mettere in relazione tre tematiche care alle riflessioni delle nostre Chiese, il tema della evangelizzazione, il rapporto con le tematiche giovanili ed il rapporto con il mondo ecumenico. Abbiamo oggi qui con noi tre persone che interverranno e ci guideranno in questa riflessione. Il pastore Giuseppe Ficara, pastore presso la Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni, membro della Commissione Evangelizzazione. Stefano Bertuzzi, segretario della Federazione Giovanile Evangelica in Italia. Peter Ciaccio, pastore presso la Chiesa Valdese di Palermo, metodista, membro della Commissione sui rapporti ecumenici. Comincerei dal pastore Ficara, a cui chiederei di aiutarci ad entrare nel mondo della discussione, dei progetti in campo di evangelizzazione, sappiamo che la Commissione Evangelizzazione è molto impegnata nel lavoro relativo alla campagna evangelizzazione, chiederei a Giuseppe di illustrarci il lavoro della Commissione e di dirci quali risultati e quali prospettive possiamo cogliere da questo primo approccio alla campagna. La Commissione per l'Evangelizzazione è partita da una domanda. Che cos'è l'Evangelizzazione per i credenti e per la Chiesa in genere, la Chiesa di Gesù Cristo nel mondo? E la risposta che ci siamo dati è stata quella che ogni credente è un credente che è chiamato ad evangelizzare. Che cosa significa che è chiamato ad evangelizzare? Ad esprimere semplicemente la propria fede, a testimoniarla, perché crediamo profondamente che la fede molto semplicemente va condivisa. Non va vissuta da soli, con la propria solitudine, nel cucuzzolo di una montagna o nella propria stanzetta soltanto, ma va condivisa. E allora questa fede va raccontata, va testimoniata con persone che accettano di viverla insieme. E allora a partire da questo concetto a cui crediamo profondamente, abbiamo programmato, secondo le indicazioni del sinodo dell'anno scorso, una settimana per l'evangelizzazione, perché i credenti avessero l'opportunità di farsi forza del fatto che insieme si sarebbe andati incontro all'essere credenti con questa accezione di raccontare la propria fede. Questa settimana per l'evangelizzazione, che ha avuto luogo nel maggio del 2014, dal 5 all'11, ha dato un esito al di là della nostra più felice immaginazione, perché moltissime delle nostre chiese, circa l'85% delle nostre chiese, hanno accettato questa sfida. Qual era la sfida? Non soltanto di raccontarsi, ma anche di uscire dai propri locali di culto, quindi dalle proprie mura, che spesso possono anche essere dei luoghi protetti, da sguardi e orecchi indiscreti, per certi versi, e esprimere la propria fede pubblicamente attraverso degli opuscoli che la Commissione aveva già prodotto, attraverso dei doni, come potevano per esempio essere i Nuovi Testamenti, da offrire a delle persone che passavano dal luogo dove aveva luogo questo momento di evangelizzazione. Ecco, la cosa molto importante per la nostra chiesa è stata questo contatto diretto dei credenti con altri credenti, magari, che sulla strada hanno condiviso la loro gioia di vivere un tipo di fede che magari poteva essere vissuto con premesse diverse, interpretazioni bibliche diverse, ma questo non importava affatto. L'importante è che questo evento significativo del raccontare la propria fede sia accaduto. C'è stato e ne siamo molto felici. E adesso il Sinodo di quest'anno ha programmato, o ha chiesto, che un'altra settimana per l'evangelizzazione l'anno prossimo accada. La Commissione continuerà il suo lavoro, produrrà del materiale che tende anche a formare i credenti, perché tante volte ci sono i credenti che hanno voglia di raccontare la propria fede, di testimoniarla, ma alle volte non sanno esprimerla. E allora ci vogliono anche degli strumenti perché questo possa accadere nel migliore dei modi. Grazie. Proseguirei adesso con Stefano Bertuzzi, a cui chiederei prima di tutto una panoramica su il dinamismo che è interno all'essere giovani, quali sono, se ci sono, dei progetti o delle discussioni interne alla Federazione Giovanile Evangelica in Italia sul tema dell'evangelizzazione ed anche dell'ecumenismo, e di illustrarci appunto una panoramica generale su questo. Grazie. Sì, effettivamente su questo tema, sul tema dell'evangelizzazione, il dibattito in atto nella Federazione c'è, è forte, deriva dallo scorso congresso che si è tenuto in novembre, nel quale il Consiglio uscente si presentava con due parole forti, che erano poi le parole che uscivano dalla Federazione stessa nel corso dei mesi precedenti, che erano cura e testimonianza, quindi cura della Federazione, delle comunità, cura di chi ci sta accanto, cura anche di se stessi e di se stesse, e testimonianza, perché poi il bello di essere giovani insieme e di vivere questa federazione insieme va in qualche modo detto, va fatto sapere, è una gioia che abbiamo nel cuore e quindi vogliamo in qualche modo condividerla. Ecco, da queste due parole ne è nata spontaneamente una terza durante il congresso che è stato evangelizzazione. Proprio questa necessità di esprimere questo senso di cura all'interno e all'esterno e di esprimerlo, appunto, e di raccontarlo, ci porta anche a raccontare il perché ci riuniamo insieme, non soltanto la gioia del farlo, ma il motivo forte che ci stringe, e cioè, appunto, il legame che ci lega tra noi con il Signore Gesù Cristo. Ecco, attraverso questo percorso, poi, la Federazione ha deciso quindi di puntare sul tema dell'evangelizzazione, facendo diverse attività. nel 2014 il Cult of Jay è stato dedicato al tema dell'evangelizzazione e il tutto sfocerà in un campo studi nazionale, ad aprile del prossimo anno del 2015, che sarà proprio sul tema dell'evangelizzazione. non è un campo studi, non è un campo in cui si va a evangelizzare, attenzione, perché proprio come le chiese tutte stanno cercando di capire come farlo, anche i giovani cercano di capire come farlo, se farlo anche prima di tutto, ancora se il come, anche se forse a questo se abbiamo già risposto, ecco. Come farlo? E quindi di ricostruire degli strumenti attuali, degli strumenti che vadano bene nella società di oggi, ci rendiamo conto che non possiamo fare i colportori, portare le Bibbie, non sarebbe attuabile, però sappiamo che ci sono nuovi strumenti, nuove forme di comunicazione, la comunicazione oggi a tutti i livelli è importantissima, ma è importante ovviamente anche quello che si comunica. Quindi tutto intorno a questo ci sarà una lunga e approfondita discussione e ci auguriamo anche che oltre al gruppo organizzatore sicuramente molto forte che sta seguendo e organizzando questo evento, arrivino dalle stessi gruppi giovanili sparsi nel territorio, dai singoli e delle singole, arrivino degli input, arrivino degli aiuti per capire come procedere in questo campo. È molto bello, ci tengo a sottolinearlo, il fatto che sia le chiese sia la federazione giovanile abbiano ritenuto importante l'argomento dell'evangelizzazione contemporaneamente quasi, accavallandosi addirittura con gli eventi, perché appunto abbiamo detto che la settimana dell'evangelizzazione iniziava il 5 e il 5 maggio, il 4 maggio c'era il cult of Jay sull'evangelizzazione, quindi un accavallarsi di eventi neanche fatto apposta, che però ci indica che forse la strada che stiamo seguendo è quella giusta, forse siamo ben guidati da questo punto di vista. Grazie Stefano. Adesso passerei a Peter Ciaccio, membro della Commissione Rapporti Ecumenici, a cui vorrei chiedere in particolare cosa c'è di nuovo in ambito ecumenico, se questa, chiaramente in un'ottica di riflessione inerente al modello protestante di ecumenismo, e quali sono, se ci sono, le connessioni fra evangelizzazione ed ecumenismo? Beh ecco, esiste un modello protestante di ecumenismo, purtroppo questo storicamente, insomma da parte cattolica è sempre stato visto come un modello minimalista, dunque insufficiente, che è quello del cammino per riconoscere l'altra Chiesa come parte anch'essa della Chiesa di Gesù Cristo. Questo perché noi facciamo due distinzioni. Quando nel credo, diciamo, credo la Chiesa, noi intendiamo, non credo la Chiesa Valdese o la Chiesa Metodista o la Chiesa Cattolica Romana, ecco, ma intendiamo la Chiesa dei Santi che conosce Gesù, ecco, questo è il nostro, quello che crediamo noi, mentre invece da parte cattolica c'è un'identificazione tra questa Chiesa che si confessa nel credo e la Chiesa Cattolica Romana, appunto. Dunque c'è un modello diverso e chiaramente questo può essere un problema nell'ecumenismo tra protestanti e cattolici, ma sicuramente facilita invece l'ecumenismo tra protestanti che notoriamente sono più frammentati. Per questo per noi è molto interessante, ecco, chiaramente novità dal punto di vista ecumenico, Papa Francesco, ecco, c'è, abbiamo un Papa che, abbiamo, hanno, ecco, non noi, ecco, hanno un Papa che pone l'accento spesso su Gesù Cristo, su, più che su sistemi valoriali, su altre questioni, ecco, sicuramente desta la nostra attenzione. Il fatto che abbia mandato un saluto per la prima volta a questo sinodo indica che forse se non ci riconosce come parte della Chiesa di Gesù Cristo, che sarebbe il nostro modello, riconosce un'affinità. Ecco, questo mi sembra interessante e quando ci sono segnali di questo tipo non si può restare indifferenti. Proprio perché il nostro obiettivo come Chiese non è l'ecumenismo, ma è l'evangelizzazione, cioè è l'annuncio di Gesù Cristo. Dunque, ecco, questo a noi interessa. L'ecumenismo è un passaggio, uno strumento che deve servire per testimoniare la buona notizia di Gesù in maniera più efficace, ecco, non dico unitaria o omogenea, ecco, però in maniera più efficace nella società di oggi. È più interessante parlare di Gesù alle persone, agli uomini e alle donne, piuttosto che litigare le nostre differenze. Pur essendo importanti, ecco, se non mettiamo in secondo piano, cioè mettiamo in secondo piano le differenze, non in terzo o quarto, ecco, ma in secondo rispetto al discorso dell'annuncio dell'Evangelo di Gesù Cristo. Ecco perché c'è un legame. Se ecumenismo diventa una trattativa sui punti, ecco, questa cosa non funziona. Se è finalizzata un discorso altro e alto, allora diventa una cosa interessante, proprio per la vocazione che le Chiese che rivendicano di far parte della Chiesa di Gesù Cristo, ecco, hanno. Grazie Peter. Apriamo ora le domande. Prego. Luca Baratto, Notizie Evangeliche. Io volevo ritornare un momento sui giovani e forse uscire un momentino anche dal tema, ma visto che abbiamo anche qua un rappresentante autorevole dei giovani evangelici italiani, insomma, la crisi che colpisce l'Europa intera, l'Italia in particolare, ha le vittime, insomma, i giovani, che basta vedere i dati sulla disoccupazione, sulla mancanza di lavoro, si dice le prospettive del futuro sono diminuite o non ci sono e questo non può che colpire i giovani. Qual è se c'è una riflessione su questo tema da parte dei giovani evangelici italiani? E se anche questa può avere in qualche modo una connessione con la testimonianza evangelica, naturalmente. Sicuramente la riflessione su questi temi c'è. È uscito anche forte sempre dal congresso di novembre il desiderio che i giovani, e in particolare i giovani della federazione, continuano a interrogarsi sui temi dell'attualità, sui temi della politica, sui temi che poi influenzano la nostra vita costantemente. E quindi abbiamo seguito e seguiamo con preoccupazione l'evoluzione che c'è attualmente della crisi e il fatto che appunto molti giovani vivono oggi in una società totalmente precaria. Siamo passati dalla precarietà del lavoro a una precarietà ormai di vita, una precarietà che coinvolge tutto, che coinvolge il poter delineare un proprio futuro, il poter creare una famiglia, il poter far parte pienamente della società, cosa che magari qualche decina di anni fa si pensava che sarebbe stato sempre più semplice, sempre più scontato quasi. Ecco oggi non siamo più in quella fase lì e ci sono dei giovani che si interrogano, si guardano intorno, che anche lì stanno cercando di ricostruire i propri strumenti. Però ecco io credo che in questo percorso qui quello che sta facendo la federazione è molto importante per quanto riguarda il dialogo. Dialogo su tre aspetti importanti, tre inter, diciamo così, il dialogo intergenerazionale, quindi tre generazioni differenti di giovani, giovani cresciuti nel mondo analogico, i giovani cosiddetti della generazione digitale, che entrambi si trovano con problematiche differenti, ma ad affrontare questa sfida della precarietà delle vite, la sfida dell'interculturale, perché oggi ci troviamo in una società che è sempre più interculturale, anche se ogni tanto vorrebbe nasconderlo, vorrebbe non rendersene quasi conto. E invece questo è un aspetto su cui la federazione sta lavorando tantissimo, in particolare con i giovani, le giovani immigrati e i figli e le figlie degli immigrati, quindi la cosiddetta seconda generazione, che spesso soffre ancora di più di quella precarietà che dicevamo prima, perché c'è una precarietà che coinvolge anche il proprio sentirsi cittadino, quindi veramente delle situazioni molto pesanti e lì ci siamo, lì nella Federazione Giovanile Evangelica in Italia, il progetto Essere Chisi Insieme è diventato Essere Giovani Insieme, quindi dentro le nostre chiese, ma anche fuori dalle nostre chiese. E l'ultimo aspetto molto importante nello scenario di crisi è quello internazionale. I nostri rapporti internazionali con movimenti ecumenici, movimenti denominazionali e non solo, sono molto forti, molto fitti. Ci rendiamo conto che spesso per trovare una stabilità bisogna andare via, purtroppo è anche questa la condizione, però prima di andare via bisogna anche conoscere dove si va, cosa si fa. E quindi effettivamente in quest'ambito qui i progetti di scambio che abbiamo, le relazioni con gli organismi internazionali dove i giovani possono andare a frequentare campi su tematiche molto importanti, sempre relative alla crisi, crisi economica, crisi ambientale, eccetera, li fanno crescere, li fanno formare e nel contempo abbiamo un interscambio, perché per persone che vanno via abbiamo gente che viene qui, quindi formare qualcuno è un formarsi e formare anche per gli altri paesi e c'è un interscambio molto importante. Quindi con questi tre inter noi cerchiamo di seguire, di essere sul punto e di portare avanti quella testimonianza che è uno dei punti che poi, come ho detto prima, si è trasformata in evangelizzazione. Grazie. Grazie Diego Meggiolaro, Radio Beckwith. Una domanda rivolta al tema dei giovani, però diciamo un po' più leggera per chi ci stesse ascoltando. Come si fa a mettersi in contatto con l'AfJ per chi volesse partecipare? Anche un po' qual è lo stato di salute adesso della Federazione Giovanni Evangelica Italiana e quali saranno i suoi prossimi appuntamenti. Poi una domanda invece che riguarda il tema dell'evangelizzazione, se sono stati utilizzati nuovi media per questo tipo di attività che la Chiesa Valdese ha intrapreso e in che modo se ce ne saranno di nuovi e di futuri, se ci sono stati. Grazie. Allora rispondo subito molto rapidamente sui contatti, anzi prima di tutto sullo stato di salute della Federazione. Abbiamo una federazione in questo momento molto attiva e vitale. tanti giovani, tanti giovanissimi, quindi un'età media che si sta abbassando, ma con una voglia di crescere, crescere insieme, lavorare insieme, molto forte e quindi i nostri ultimi campi hanno fatto il tutto esaurito, per non parlare dell'happening giovanile che abbiamo avuto il 2 giugno, che ha visto più di 300 persone, più di 300 giovani partecipare. Quindi direi che più che lo stato proprio della federazione, voglio dire lo stato dei giovani evangelici delle nostre chiese è molto attivo, anche perché come federazione cerchiamo di mettere i nostri giovani in una rete di contatti che va dal progetti di animazione giovanile del primo distretto, al CASD, a tutti insomma quegli organismi all'interno delle nostre chiese che fanno attività giovanile. Per mettersi in contatto con noi abbiamo un sito internet www.ofj.org e presto anche lì ci saranno novità, ma non vi annuncio troppo. Oppure c'è l'email dell'email della segreteria che è segreteria.ofj.gmail.com. Ultimo appunto, i nostri prossimi appuntamenti, in autunno avremo, a parte alcuni, seguiteci sempre su Facebook e sul sito perché abbiamo sempre appuntamenti sparsi, visite in giro per l'Italia, quindi c'è modo di venirci a trovare un po' dappertutto. I nostri prossimi appuntamenti ufficiali sono in autunno con i campi formazione, il primo sarà a Napoli il campo formazione sud, poi avremo a novembre e sempre a novembre il campo formazione nord ad Agape e poi invece il campo formazione centro a Firenze, per concludere questo giro di formazione con il campo studi che invece sarà a Ecumene. E poi a giugno avremo di nuovo un altro happening giovanile, quindi prepariamoci per un grande evento come quello, ma insomma prepariamoci tutto l'anno per frequentare l'AfJ, perdonatemi la pubblicità, grazie. Sì, la domanda dell'uso dei nuovi media. Ovviamente la Commissione per l'Evangelizzazione ha usato tutti i media tradizionali possibili e immaginabili, per cui il giornale delle chiese evangeliche valdesi, metodiste, battiste, riforma, abbiamo avuto un incarto, ma anche diversi articoli che hanno trattato il tema dell'evangelizzazione, ma è stato non soltanto un proporre il tema, ma anche un dibattito sul tema dell'evangelizzazione, sul riforma. Come anche su Opuscole, abbiamo prodotto degli Opuscole, dei libretti, delle locandine, per divulgare all'interno delle nostre chiese, ma anche all'esterno delle nostre chiese, il tema della propria fede, dell'evangelizzazione. Anche attraverso un video abbiamo cercato di coinvolgere tutti i credenti delle nostre chiese al tema dell'evangelizzazione, spiegando, come avevo detto all'inizio, che la testimonianza della propria fede è qualcosa di personale, non che si può delegare al pastore della propria chiesa o ad altre persone. Abbiamo anche prodotto un sito internet che è visitabile all'interno del sito della chiesavaldese.org, quindi evangelizzazione.chiesavaldese.org, all'interno del quale si trovano tutti i materiali che abbiamo prodotti, anche delle riflessioni, riflessioni bibliche, piccole predicazioni e altro. Ma abbiamo anche una bella, interessante pagina Facebook, dal nome La Buona Notizia. Il nome è già tutto un programma, però ha senz'altro riscosso già un notevole successo perché gli interventi all'interno di questa pagina sono notevoli, per cui si trovano anche fotografie circa i temi dell'evangelizzazione o i momenti dell'evangelizzazione, si trovano anche domande, si trovano anche risposte, oppure anche letture bibliche, piccoli commenti. Ecco, questo riteniamo che sia molto importante in un'epoca in cui il digitale o comunque il virtuale è alla portata di tutti. Abbiamo anche in programma di far produrre dei video che raccontano dove ognuno può raccontare una piccola propria testimonianza personale che può raggiungere anche tutti gli altri. Grazie. Laura Caffanini del settimanale Vita Nuova di Parma, Dio Cesano. Dalle discussioni sinodali è emerso l'orientamento delle chiese valdesi e metodiste su un tipo di ecumenismo di tipo più interdenominazionale, internazionale, lo ribadiva il pastore Ciaccio prima. Però sono emersi anche, per esempio, un tipo di ecumenismo che si vive anche in Italia, inclusivo anche delle chiese cattoliche ortodossa, per esempio i vari consigli di chiese cristiane che ci sono sul territorio, esempi positivi. Allora volevo chiedere se nell'ordine del giorno che verrà discusso stasera e la cui bossa è stata consegnata ai membri del sinodo poco fa, ci saranno delle istanze di tipo concreto rivolte al territorio italiano e se sarà compresa anche la proposta della commissione d'esame, che la commissione d'esame ha fatto su questo punto di ecumenismo qualche giorno fa, sulla possibile nascita di un consiglio delle chiese cristiane nazionali in Italia. Grazie. Allora, non posso anticipare quali saranno i punti in discussione nel particolare del sinodo, posso commentare quello che è successo fino adesso. C'è un'attenzione da parte nostra rispetto a questo modello del consiglio di chiese, ci sono alcune città, Milano, Venezia, regioni, la Campania, ecco, dove ci sono dei consigli di chiese. Quello è un modello che a noi protestanti piace molto, ecco. Però bisogna riconoscere e anche rispettare questa posizione, che invece per la Chiesa Cattolica è un modello un po' problematico, perché presuppone, come dire, sono organi politici più che teologici, ecco. Ovvero ci si siede intorno a un tavolo e quando ci si siede intorno a un tavolo, come nella storia di Re Artù, l'importante è essere tutti uguali. Anche il re che si siede nella tavola rotonda è uguale ai cavalieri che si siedono lì. Dunque il problema non è nostro rispetto al consiglio di chiese, ma è un problema della Chiesa Cattolica, che ripeto, rispetto, perché bisogna anche rispettare le diverse sensibilità ecclesiologiche. Dunque noi auspichiamo questo, la formazione di consigli di chiese, sia a livello locale e nazionale, come auspicheremmo l'adesione della Chiesa Cattolica al Consiglio Ecumenico delle Chiese di Ginevra. Ecco, mentre al momento partecipa soltanto ai lavori come membro a tutti gli effetti della Commissione Fede e Costituzione, ma non di tutto il Consiglio Ecumenico delle Chiese. Speriamo che questo sia possibile, perché l'obiettivo di questi consigli nazionali di chiese o consigli locali di chiese non è quello di annullare le differenze, le particolarità. Ci mancherebbe, altrimenti non ci sederemo in questi consigli, ma questo lo dico per invogliare la Chiesa Cattolica. L'obiettivo è quello di dare una comune testimonianza. Sappiamo che in Europa è in atto la secolarizzazione, dunque sempre meno persone vedono la Chiesa come qualcosa di importante nella loro vita, sempre meno persone ritengono la fede un elemento importante della propria vita. I consigli di chiese a questo servono, a evitare che il rapporto tra chiese sia come un rapporto tra partiti confliggenti, ma vedere dove si può fare una testimonianza comune. L'intervento di Monsignor Manzueto Bianchi all'inizio di questo sinodo è stato interessante, perché andava in questa direzione. Quando ha detto ci sono delle cose su cui potremmo lavorare insieme, ecco, questo è il senso. Ad esempio si è parlato dell'appello contro la violenza di genere, ecco, è proprio questo il senso dei consigli di chiese. Poi è chiaro che frequentandosi, lavorando insieme, forse nasce qualche cosa di più, ecco, ma non è questo l'obiettivo primario. L'obiettivo primario è la testimonianza comune, il lavoro comune, il conoscersi. Ecco, questo è il punto. Sono altre domande? Va bene, allora possiamo chiudere qui. Vorrei ringraziare i nostri ospiti e ringraziare chi è intervenuto, gli ascoltatori di Radio Voce della Speranza e di Radio Beckwith, e chi ci segue in streaming sul sito rbe.it. Grazie a tutti.